Basta un semplice clic sullo store del proprio smartphone, sia esso Apple o Android, o dal sito www.immuni.italia.it per scaricare l'app Immuni, dedicata al tracciamento dei positivi Covid. Dopo la via libera del garante della privacy e quello della regione Abruzzo, che è aderito alla sperimentazione con altre tre regioni, Liguria, Marche e Puglia, l'app è pronta ad accompagnare la fase 2 dell'epidemia di coronavirus. Lo sviluppo dell'app è stato affidato alla software house milanese Bending Spoons ed è stato coordinato dal Ministero dell'Innovazione e guidato dalla Ministra Paola Pisano. Ma vediamo come si installa e configura l'applicazione e come funziona nel dettaglio. Per prima cosa va aggiornato lo smartphone all'ultimo sistema operativo disponibile. Dopo aver scaricato dallo store l'applicazione è necessario accettare l'informativa privacy, poi bisogna indicare la regione di residenza e la provincia di riferimento ed abilitare le notifiche push. A questo punto l'applicazione è già attiva e lo resta anche quando è chiusa. Di fatto la sua funzione sarà avvertire gli utenti con una notifica nel caso in cui entrino in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Il sistema è basato sulla tecnologia Bluetooth Lao Energy e non utilizza dati di geolocalizzazione di alcun genere, inclusi quelli del GPS. L'app non raccoglie e non è in grado di ottenere alcun dato identificativo dell'utente, quali nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono o indirizzo mail, riuscendo quindi a determinare solo che un contatto fra due utenti sia avvenuto, ma non chi siano effettivamente i due utenti o dove si siano incontrati. Per come funziona l'app dunque la notifica non sarà immediata, ma dovrebbe avvenire a distanza di qualche ora. Come già abbondantemente chiarito dal governo l'app non sarà obbligatoria, si potrà scaricare su base volontaria e averla non costituirà un accesso privilegiato agli spostamenti. L'obiettivo di Immuni quindi sarà quello di contenere il contagio, permettendo a chi riceve una segnalazione di mettersi subito in quarantena e richiedere un tampone al sistema sanitario nazionale. Ma proprio da questo punto di vista ci sono le maggiori perplessità, come ha spiegato al nostro microfono il virologo Paolo Fazzi, al capo del laboratorio di riferimento analisi tamponi di Pescara. L'app ha bisogno infatti di una platea vasta di utenti per poter funzionare. Ma anche qui è un discorso sempre anche soggettivo. Se io sono stato positivo e dico al mio cellulare che sono positivo e quindi in pratica tengo meno la mia privacy, ma di più alla collettività potrebbe funzionare. Però dubito che in Italia ciò possa servire. Un'altra iniziativa importante, la Regione Abruzzo parteciperà, come alcune altre regioni dell'Italia, a questa iniziativa importante sempre per combattere il Covid. Ognuno, e anzi invito tutti gli abruzzesi a farlo, ma soprattutto lo raccomando a coloro che arriveranno da domani da altre regioni, a potersi iscrivere a questa app che permetterà in poco tempo, se la persona dovesse venire a contatto con pazienti positivi, di ricevere questa informazione. È importante per evitare il contagio, perché il lavoro che noi dobbiamo fare è proprio questo, di interrompere la catena dei contagi. Un po' anticipato quella che era la mia prossima domanda, perché da domani sarà possibile muoversi da regione a regione. C'è un po' di preoccupazione da parte vostra? Noi abbiamo lasciato la libertà di far arrivare tutti gli italiani da tutte le altre regioni, non abbiamo creato nessun ostacolo. Quello che raccomandiamo è proprio questa, questa iscrizione all'app in questa settimana, ma soprattutto continuare col distanziamento sociale negli ruoghi chiusi, indossare la mascherina e se continuiamo su questa strada porteremo avanti sempre di più un numero ridotto, ma soprattutto aumenteremo la prevenzione. Quanto riguarda la situazione dei contagi dei positivi nella nostra regione, ormai parliamo di numeri davvero molto piccoli. Nei giorni scorsi, tra l'altro in due giorni, non ci sono stati contagi, ma ovviamente voi continuate a mantenere alta la guardia. Manteniamo alta la guardia, ma soprattutto gli interventi sui tamponi vengono fatti in maniera mirata. Non sono così sparsi senza finalità, ma vengono prese delle categorie di professioni più a rischio, in modo da monitorare sempre di più la situazione nel nostro Abruzzo. I numeri sono bassi, ma questo non significa che dobbiamo essere liberi di esprimerci come vogliamo.